Oh, via. Ecco. Ragioniere Fantuzzi. Ma dov'è stato? Eh, poi le racconto. Stia attento. Attento. Mi scusi, non l'ho fatto apposta. Piano. Beh, per cortesia. Eh, no. Ah! Perché? Scusi. Cucettone, noi già siamo stati al vagone al ristorante. Ah, sì, adesso ci vado anch'io, per una fame tremenda. Ma ormai è chiuso. Non mangi più. Esatto, unica serie. È chiuso. Eh, vediamo un po'. Ah, ma c'è una stazioncina. Sono salvo. L'accelerato Napoli Potenza Tripoli. Nella terza classe sono ammessi solo gli aggiorni... Dai un cestino. Zupido, signore. Quanto è? 9.000. 9.000. Spetti, eh. Amiche, da cambiare 50.000 lire, per favore. Ecco, ma ce l'ho. Grazie. Mi dà il resto, perché ho paura che parte. Perché ho paura che parte. L'amo. Me lo dà, per favore? Ssss, ma parte! Me lo dì! Me lo... Me lo dì! Me lo... Me lo... No? Vieni qua. 10 a te. 10 a me. 10 a te. E 20 a me. Per 50.000 lire, comprerò nell'ordine. Una furchettina di plastica. Un colpellino di plastica. Stuzzicadenti di plastica. Un bicchierino di plastica. Un'ala di pollo. Di plastica? E una mela baccata. E una mela baccata. Un'ala di... Un'ala di...